Buongiorno a tutti e benvenuti al corso facile di maglia, la maglia di Antonella. Oggi farò un video brevissimo su l'i-cord semplice, fatto praticamente con i ferri non dritti, ma comunque dritti sempre, ma a doppia punta. Questo perché ho appena pubblicato un video su come fare l'i-cord e in quella occasione avevo detto che io trovo noioso lo spostamento delle maglie da un ferro tornando indietro sul ferro di una volta lavorato per riportare indietro le maglie. E una di voi, devo dire, è stata molto carina e sono molto contenta del commento, ha detto ma non è più semplice usare i ferri a doppia punta perché in questo modo questo passaggio non c'è più. Assolutamente vero, per cui vi metto a conoscenza di questo. Allora, sapete che l'i-cord mi serve per fare i cordoncini in maniera semplicissima, per cui ho messo quattro maglie e invece di passare queste maglie su questo ferro e ricominciare, lo sposto semplicemente in fondo al mio ago, visto che è una doppia punta, tengo il filo come al solito dietro sul punto più a sinistra e lavoro a diritto le mie maglie. sapete che il primo è sempre un pochino complesso perché devo tirarlo perché è necessario che voi tiriate sempre bene in modo soprattutto il primo punto in modo tale che ok vedete 3 e 4 a questo punto tirate, non passate i punti ma lo passate semplicemente in fondo al nostro ago, il filo rimane sempre a sinistra e io ricomincio a farlo e quindi viene una in cord senza la necessità di dover spostare i punti sempre una volta che li ho fatti, il primo punto è sempre un po' complesso, soprattutto all'inizio perché non ho molta presa, faccio le quattro ho messo quattro punti a maglia diritta, quindi sono in fondo, lo passo, arrivo in fondo al ferro in questo modo e ricomincio, quindi ricordatevi che va soprattutto il primo punto fatto tirando un po' il filo, altrimenti dietro il nostro cordoncino, non viene molto bello, quindi vi ricordo, lo faccio una volta e poi ne faccio un po', vi ricordo che è la lavorazione ai cord e serve semplicemente lavoro sempre i quattro punti che ho messo a diritto, serve per creare dei cordoncini che potrò usare per fare dei fiocchetti oppure dei... sono dei cordoncini, sono dei specie di Scooby-Doo, adesso lavoro un po' e vi faccio vedere la fine, ecco qua, questo è il cordoncino che ho fatto, se vedete è semplicissimo e lo potrò usare appunto come o cordoncini per i cappelli o per fiocchettini e via dicendo e ottengo lo stesso risultato dell'i-cord fatto con i ferri normali, ma con i ferri a due punte non ho la necessità di continuare a spostare i nostri punti dal ferro di destra a quello di sinistra. Bene, devo ringraziare comunque ancora una volta la nostra amica che mi ha dato questo consiglio e vi ho messo a conoscenza di questo. Per cui se vi è piaciuto questo video vi chiedo di mettermi un like e di condividerlo, chi non è ancora iscritto al mio canale lo invito a farlo e se avete altri commenti scrivetemi in modo tale che io possa realizzare e mettere a conoscenza tutti voi di queste novità. Arrivederci e ciao a tutti!